Lunedì 17 giugno, ben ritrovati con il TGL News, proprio quando i familiari di Giampaolo Bertuzzi hanno creduto di poterlo finalmente riabbracciare, l'odissea dell'artigiano piacentino di 64 anni è finita in tragedia sulla statale 45 tra Casino Agnelli e Montechiaro, a soli 14 km dalla sua casa settima dalla quale si era allontanato senza lasciare inizialmente traccia lo scorso 31 maggio sto tornando da voi, ha detto infatti Bertuzzi al telefono alla moglie sabato sera dopo che era stato rintracciato in un campeggio in provincia di Chieti, giorni prima una decisione quella di tornare a casa che tuttavia non si è mai concretizzata, sabato notte infatti il camper che Bertuzzi aveva acquistato a Fano nelle Marche si è improvvisamente incendiato, non lasciando scampo al 64enne piacentino. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Piacenza assieme al personale specializzato del NAS di Parma e al nucleo ispettorato del lavoro di Piacenza hanno sequestrato oltre 25 kg di prodotti alimentari scaduti in due bar di Gragnano e San Nicolò in un caso il titolare è stato denunciato per aver installato un sistema di video sorveglianza senza autorizzazione e segnalato all'ASD poiché è stata riscontrata la mancanza dell'attestato di formazione personale di alimentarista sono state inoltre elevate alcune sanzioni amministrative per la presenza di un lavoratore in nero e per carenze igienico-sanitarie per un totale di 4.800 euro, a stessa sorte per il titolare di un pub a San Nicolò identiche le sanzioni elevate. Dopo l'annuncio dello stato di agitazione da parte dei sindacati della Polizia Locale in materia dei servizi resi dagli agenti durante manifestazioni organizzate da privati ad esempio il Giro d'Italia, il Gola Gola Festival e tanti altri è arrivata la pronta risposta del Comune di Piacenza l'assessore alla sicurezza Luca Zandonella infatti ha assicurato che la modifica richiesta al regolamento che disciplina le manifestazioni private prevedendo che gli oneri per il lavoro della Polizia Locale siano a carico degli organizzatori è inserita all'ordine del giorno della giunta e sarà approvata nel corso della seduta di oggi qui diamo spostandoci in provincia, tradizionale appuntamento di naturisti ieri in Trebbia, Marsaglia, nella spiaggia di Secchiello Selvaggio un raduno ormai capace di attirare partecipanti da tutta Italia assemblee dei soci delle associazioni Anita e Trebbianat tuffi, partite di pallavolo e grande pranzo a base di porchetta banditi piatti di plastica e tutto ripulito al momento dei saluti questa è la nostra ultima notizia il TGN News torna più tardi, buon pomeriggio